Nuova giunta, nuovi assessori ma stesso malumore all'interno del Consiglio Comunale. La politica di Acate vive un momento travagliato, domani si vota la mozione di sfiducia al sindaco Giovanni Caruso. Un nuovo inizio politico, si aprirà definitivamente la campagna elettorale per le elezioni del 2013, comunque andranno le votazioni e le proposte di sfiducia al sindaco segnano un punto di non ritorno, di rottura tra il primo cittadino e gran parte degli esponenti del Consiglio Comunale della città. I voti a favore della mozione a dire del consigliere Gianfranco Fidone M.P.A. sarebbero nove, pochi rispetto ai 12 su 15 indispensabili a far passare la mozione e dalle fila degli sfiducianti Fidone commenta la giunta monocolore di Caruso, sono rimasti solo quattro amici al bar. Finalmente arriva in Consiglio Comunale la mozione di sfiducia, siamo consapevoli delle difficoltà legate ai numeri. Il sindaco formalmente, molto probabilmente, non verrà sfiduciato, tuttavia di fatto la sfiducia è chiarissima perché non ha più la maggioranza in Consiglio Comunale, tuttavia anche la nomina degli assessori è fortemente indicativa del momento politico che sta vivendo il sindaco, perché il sindaco è chiaramente isolato, ha fatto una giunta monocolore, ha chiamato al suo fianco due persone veramente per bene, capaci, ma fanno parte della sua cerchia ristretta di amici e la mozione di sfiducia di domani comunque vada segnerà la fine di un decennio che Cate vuole in fretta dimenticare.